Ma buongiorno eroi del bancone, bentrovati alla Batrassegna, oggi è venerdì 11 novembre La prima cosa che vi voglio chiedere oggi, ma secondo voi qual è il momento migliore, l'età giusta per farsi un tatuaggio? Perché io premetto che non ne ho, manco uno, perché non saprei cosa farmi, cioè non ho mai capito che cosa potessi tatuarmi, anche se mi piacciono Però la notizia strana di oggi è che è scoppiato un casino della madonna per un video che hanno postato due genitori, entrambi molto tatuati Ma quella è una scelta, che hanno messo su TikTok questo video del primo tatuaggio del loro bimbo a sei mesi Quindi è scoppiato un bordello, 13 milioni di visualizzazioni, siete pazzi, alcuni dicono una follia, un gesto folle, sconsiderato E gli altri dicono che bello, quindi è scoppiato una roba incredibile E poi alla fine i genitori sono stati costretti a dire che era comunque un tatuaggio provvisorio Però mi sono sempre chiesto qual è l'età giusta per fare un tatuaggio Ecco, se deve essere una roba imposta dai genitori o lo devi fare a 18 anni Non so, quanti ne avete voi i tatuaggi, ce li avete, cosa fareste voi? Comunque è scoppiato un bordello e alla fine hanno detto Guardate che il tatuaggio è falso, non so che tipo di chiostra abbiamo usato Lo abbiamo fatto in visita allo zoo, ma la tatuatrice ci ha detto che era vernice, attossica Ed è venuto via il giorno dopo Comunque la gente che si deve stare lì a rompersi le palle, a vedere cosa fanno gli altri Ormai sta diventando una roba veramente oltre ogni limite Comunque questo è il bello e il brutto dei social network Ma passiamo al bello e il brutto invece di quello che è successo ieri e quello che succederà oggi in Italia Leggendo le prime pagine della nostra stampa nazionale Ecco, il Gong ci introduce al Corriere della Sera, il giornale più letto d'Italia E inizia così, avete visto ieri c'è stato un bordello perché le tensioni con la Francia I nostri cugini alla fine sono sempre quelli con cui litigliamo di più Anche durante il conte 2, il conte 1, il conte 1 ci fu il ritiro dell'ambasciatore Insomma, alla fine i nostri cugini francesi ci amiamo e ci odiamo E quindi il titolo è Rottura con Parigi sui migranti L'emergenza, tensione alle stelle sul caso Ocean Viking La nave approderà a Tolone La UE serve cooperazione La Francia stoppa il patto sui ricollocamenti Manca la fiducia Il governo, reazione spropositata Quindi avete visto un 2-3 via Insomma, primo mese di governo già i francesi ci odiano e viceversa Quindi poi c'è un'intervista a Fazzolari Che è un parlamentare molto molto vicino a Giorgia Meloni Che fa un'intervista Non violiamo le regole Le norme, scusate Serve rispetto Vi ricordate che già in campagna elettorale Ci fu uno scontro forte Quando la Francia disse Vigileremo noi sui conti Vigileremo noi su come farà i compiti d'Italia E Meloni ci uscì di testa E fu anche quello, diciamo, un punto di campagna elettorale E sulla Francia, niente Macron e Meloni proprio cozzano M&M proprio cozzano E poi c'è un punto di retroscena Uno scontro che va oltre l'accoglienza Migranti e scontro con la Francia Parigi L'Europa Perché in realtà Parigi non solo ha detto Siete vergognosi Inaccettabili Ha detto Ha invitato tutti gli altri paesi Membi dell'Unione A sospendere a loro volta Per, diciamo, come posso dire Andare A dare un segnale forte Da parte di tutti Contro l'Italia Che non rispetta i patti Questo è l'atteggiamento francese Che sta, appunto, coinvolgendo gli altri Partner europei L'Europa sospende a Codigo d'Italia Meloni Non rispettiamo le convenzioni Poi l'altra notizia del giorno È che ieri c'è stato il nuovo Consiglio dei Ministri Che ha varato Il nuovo decreto Aiuti Quater Divisione su Superbonus Ed estrazioni in mare Aiuti Via libera le trivelle Contanti Fino a 5.000 euro E questa roba dei contanti Si torna fuori Cioè, adesso Solo per farvi capire, no? Quando Se l'accordo adesso È 5.000 euro E prima si parlava di 10 E poi c'era 2 E poi c'era 3 Cioè, vuol dire Che questo non è una cosa Che ha una base scientifica O una base di Come posso dire Di concreta Di aumento Perché deve essere aumentato Per qualche motivo Perché 5.000 euro Cioè, è un È un qualcosa Che hanno trovato così Come compromesso E hanno detto Vabbè, dai Facciamo 5.000 euro Quindi non c'è assolutamente Una base Concreta Su qualcosa Che serva al paese Hanno detto Vabbè, 10 troppo Non va bene Facciamo 5 Cioè, tipo così No, vabbè Cosa faccio? Due etti? Lascio? Sì, così Quindi Diciamo che Siamo arrivati a 5.000 euro E io sono convinto Che questa roba Dei contanti È il classico Emendamento facilissimo Che si farà Nelle aule parlamentari Nelle commissioni Proprio facile Facile Saranno quegli emendamenti Sostituire la parola 5.000 con 4.000 Oppure qualcuno dirà Con 1.000 Con 10.000 Quelli sono i classici Emendamenti facili Facili Che si cambia Il numero Via libera Le trivelle Prestare gas naturale E sia La reteizzazione Delle bollette Di visitazione del super bonus Che passa al 90% Del prossimo gennaio Quindi non è più un super bonus Ma un bonus Quindi dovrebbero chiamare anche Il nome Perché se è al 90 Non è più super Ma è Un bonus normale Come ce ne sono tanti Ma anche la proroga Fino a fine anno Dei crediti di imposta E del taglio alle accise E l'aumento all'utilizzo Del contante Fino a 5.000 euro Ecco alcune delle misure Contenute nel decretario T4 Era approvato ieri Dal governo Meloni Tra le novità Un forte aumento del tetto Esentasse Da 600 a 3.000 euro Per le prestazioni Di welfare aziendale E questi sono appunto Alcuni provvedimenti All'interno Del decreto Quater Che sarà di fatto Diciamo il primo Decreto economico Fatto dal Dal governo Meloni E poi c'è la bella notizia Invece Che ieri E' stata annunciata Avete visto anche Dalla presidente Meloni Durante Durante l'intervento Che ha fatto insieme A Stoltenberg Il segretario della Nato E' stata questa scena Che avevo già visto L'aveva già fatta La Boschi una volta Alla camera Ha interrotto Mentre appunto Parlava Stoltenberg Ha interrotto La conferenza stampa Per annunciare Che Alessia Piperno Era stata rilasciata E dopo 45 giorni Prigionia in Iran E quindi stava Per tornare a casa E quindi vabbè Insomma Questo passaggio Siamo contenti Questa Diplomazia italiana E' sempre stata Molto Molto forte Molto impegnata A risolvere questi problemi Internazionali Quindi Una bella Una bella notizia Poi c'è Una notizia di cronaca Uccide agente accoltellata Alla stazione di Bruxelles Brutta storia Voglio uccidere degli agenti Dice la polizia Non gli credono Ma alla sera Va alla stazione di Bruxelles E ne ammazza uno Detta così Sembra Un po' Ironica Ma è stata una notizia terribile Questo è Quanto Diciamo Raccontato dal Corriere Della giornata Attuale Un po' Di quello che è successo ieri Ma passiamo Ai giornali Di partito Gli occhi di tigre Non sono una frase fatta Io voglio vedere In ognuno di noi Gli occhi di tigre Ma che poi Che cosa sono Sti occhi di tigre Nessuno l'ha capito Cioè io Se vedo qualcuno Con gli occhi di tigre Mi spavento Forse sarà per quello Che il PD Non ha preso Voti Ho preso pochi voti All'elezione Perché spaventava la gente Comunque Poi un giornaletta Gli chiederemo Che sono sti occhi di tigre Allora La Repubblica Macron rompe con Meloni Crisi diplomatica Parigi definisce Incomprensibile E disumana La decisione di Roma Di chiudere i porti E accoglie La Ocean Viking In via del tutto eccezionale L'Eliseo Cancela l'accordo Per la ridistribuzione Dei profughi E invita l'UE A fare addrettando Sigillato il confine A 20 miglia Tagliani E reazioni sproporzionate Cioè Qui insomma Repubblica parla Insomma Di una pre-crisi Forte internazionale Punta molto Sulla Sulla decisione Di Parigi Ricordiamoci Che noi siamo legati Anche con Parigi Dal Insomma Dal trattato del Quirinale Che è un trattato Bilaterale Che unisce Anche a livello Industriale Di Di cooperazione Tantissimo La Francia Con l'Italia E quindi Non c'è solo Un accordo Europeo Ma c'è proprio Un accordo bilaterale Forte con la Francia Quindi Vediamo Che come Proseguirà Appunto Sicuramente Adesso ci sarà Un chiarimento Da parte Insomma Da parte Di Meloni Da parte Di Macron E quindi Insomma L'inizio Di politica Di cooperazione Internazionale Europea Non è Dei migliori Anche Anche Repubblica Parla del decreto aiuti Tetto al contante A 5 mila euro Creppe nel governo Sul super bonus E trivelle Perché come vi dicevo ieri C'è stata un'intervista Di Zaia Che è un po' Un Come posso dire Un anti Salvini Fortissimo Nel Veneto Tra l'altro Nel Veneto La Lega Ha preso La metà Della Meloni Quindi c'è questo Grande cortocircuito Politico Mentre Zaia è molto forte La Lega Invece è andata Molto male E quindi Zaia ha detto Io sono contro Le trivellazioni Per me non esiste Io sono per il Rigassificatore Se ce lo portate da noi Noi lo Lo prendiamo E lo potenzieremo Quindi Anche all'interno Della Lega Sulle trivelle Ci sarà Un bel caos Poi C'è Anche qui Vabbè Un'apertura Bentornata all'Ess In Iran È stata dura Tenuta in cella Anche bendata E questa è la bella notizia Del giorno Infatti È su tutte le prime pagine C'è una parte politica PD e terzo polo Uniti per D'Amato Nel Lazio Ma divisi in Lombardia Quindi avete visto come Il movimento 5 stelle Di fatto è rimasto da solo Perché Il PD Non ha accettato Le condizioni Per ora Quanto pare Di Giuseppe Conte E in soccorso Di Di Conte Ci andrà Sinistra italiana E i Verdi Con Bonelli E Frato Gianni E quindi Tutte le varie anime De Petris Peccolaro Scanio Che ormai fa foto Con parlamentari Del movimento 5 stelle Come se non ci fossero Domani Come fossero Grandi amici da sempre Peccolaro Scanio Mi pare che sia Trent'anni Che è in politica Quindi Diciamo La rivoluzione 5 stelle Sta diventando La restaurazione Contiana Ecco Sono molto brutale Vabbè Ma io sono di parte Su questo Poi Passiamo All'altro giornale Di sinistra Di quelli che ho messo Nella mia Nella mia Rassegna Che è il manifesto Perché è ancora più Di sinistra Rispetto al PD Alessia Piperma È finalmente libera La blogger italiana È rentrata a Roma In Iran La rivolta Prosegue insieme Alla repressione E il titolo Sempre simpatico Di Del manifesto Bonuit Sui migranti È rottura Tra Parigi E Roma Dopo No Lo sbarco Della Russian Viking A Catania La Francia Strappa L'accordo L'UE Sui ricollocamenti Dei profughi Accusa Italia disumana Scusate Italia disumana Palazzo Chigi Reazione sproporzionata Intanto Il Mediterraneo Continua a mietere vittime Neonato Trovato morto Di freddo Durante Un salvataggio Queste le notizie Che come vi dicevo Sempre detto Dietro poi Tutte le eliti politiche Ci sono sempre persone Che stanno in mezzo al mare In attesa di un aiuto Questo è un enorme Enorme problema Sempre più difficile Da risolvere E sempre più complesso Perché si intreccia Con tantissime questioni Anche nazionali Queste sono le notizie Dei giornali Di Diciamo Che Insomma Supportano più la sinistra Ma passiamo ai giornali Che supportano invece più La destra Sono il numero uno Da sempre Ecco Siamo sempre Come vedete Introdotti Da Silvio Che con la sua La sua umiltà Riesce sempre A lietarci le giornate Comunque Allora Vedete È completamente diverso Il taglio Che dà il giornale Attacco all'Italia Macron fa l'euro bullo Straccia l'accordo Sui migranti Invita l'UE A fare lo stesso E schiera gli agenti Al confine Una reazione eccessiva Per non accogliere In tre mesi Ne ha presi Solo 38 Dai toni alti Alla crisi Meloni non arretra E il colle Chiede dialogo Sì perché il povero Mattarella Alla fine dovrà metterci Sempre una pezza Perché Nei problemi internazionali Lui Insomma Dovrà sempre Intercedere E trovare una soluzione Cresce a livelli di guardia La crisi diplomatica Fra Roma e Parigi Innescata dalla nave ONG Ocean Viking Diretta in Francia Italia disumana Accusa il ministro degli interni Francesi Gérald d'Arméan Il governo transalpino Ha stracciato il patto Di ricollocamento Dei migranti Con l'Italia Invitata l'UE A fare altrettanto Reazione ipocrita Allora su questo Secondo me Bisogna anche capire Se anche la Francia Può mettersi A dire Vabbè Straccio tutto Insomma È sempre molto delicato Perché Ricordiamoci che in Francia C'è adesso Un partito Di estrema destra Quello della Della Come si dice Della Le Pen Forte E quindi I numeri Anche in Parlamento Per Macron Non sono così facili E insomma Ci sono Insomma Una serie di questioni interne Che secondo me Sono molto complicate Ecco Mi pare che Sia comunque Una lezione molto forte Da parte della Francia E vedremo appunto Come Mattarella Riuscirà a Diciamo Trovare una soluzione Diplomatica Per Uscire da questa crisi Perché quando ci sono Le tensioni tra paesi Non fa mai bene a nessuno Ecco Poi appunto C'è Un pezzo Su Alessia Piperno Alessia Libera Dalle Iatollari Schiato un altro caso Regeni Sconti su bollette e benzina Superbono Stagliato al 90% Proroga e potenziamento Degli aiuti Contro il caro e energia Sblocco delle trevelazioni Per le stazioni di gas Rimodulazione del superbonus Che sarà prorogato al 2023 Ma la cui aliquota Sarà ridotta al 110 Dal 110 al 90 Questi alcuni dati basilari Del DL aiuti quarter Comunque ripeto Anche a livello semantico Non è più un superbonus Ma è un bonus E Questo è L'inizio Appunto Le prime pagine Del giornale E leggiamo libero Vediamo questo cosa Non è libero Figuriamoci Ancora più Tranchant Sulla pelle degli immigrati I francesi ci prendono Per i fondelli Vigliacchi Parigi accoglie La Ossian Viking Ma chiede alla UE Di strappare il patto Con l'Italia Per dividersi I clandestini Vabbè Questo è libero Che Insomma È sempre molto Molto diretto Nei suoi titoli Bollette Trivelle Superbonus Il governo Anticipa La manovra Di bilancio Sì Perché ha inserito Tutti questi punti Dentro Il decreto Quindi sono Subito operativi Dal momento in cui Entrano in gazzetta Mentre invece La legge di bilancio Come sapete Non è un decreto E quindi Per entrare In vigore Deve essere Approvata Da tutti i due Rami del Parlamento Quindi Entro Il 31 Di dicembre Quindi il governo Ha deciso Di queste cose Invece di mettere Subito in opera E le ha messe Subito in questo decreto Quindi Insomma Diciamo che le notizie Anche del centro-destra Sono molto spinte Sul fatto Di difendere il governo Sulla scelta Delle Dello NG E di attaccare La Francia Ad alzo Zero Questi sono I giornali Di centro-destra Passiamo quindi Al giornale Di Giuseppe Conte Vediamo di che cosa parla Questo governo Non lavora Col favore Delle tenebre Eccoci Quindi Il Fatto Quotidiano Apri sul 110% Con tante trivelle Tre destre Ai materassi Aiuti E nuove porcate Super bonus Smantellato E cash A 5.000 Lega e Fratelli d'Italia Divisi pure Sulle trivelle E poi c'è un articoletto Piccolino Invece sulla Sulla questione Internazionale Intanto Meloni Fa sponda Con NATO USA Macron Di chiara guerra Italia disumana E mobilita 500 agenti Alla nostra frontiera Ecco Io ci sono stato Più volte A 20 miglia Insomma Io penso che nessuno Può Scagliare la prima pietra Lì Perché Nei confini Di 20 miglia Quelli che ho potuto vedere Insomma Le questioni Sono sempre molto Delicate A prescindere I governi Che ci sono Ma ecco Nessuno può Definirsi Santo Al confine Di 20 miglia Questo lo dico Senza alcun tipo Di problema E vabbè Ovviamente Si punta tutto Sul Sul fatto Che il governo Sta un po' Modificando Le questioni Che erano state fatte Da Conte Sapete come Conte Insiste molto Su quello che ha fatto lui E il 110 Di fatto Diventa un bonus Normale E sul cash A 5000 Ripeto Mi sembra La classica cifra Che Boh Vabbè Facciamo 5 Perché ci piace così Questo è Il Il giornale di Conte Che apre appunto Sul 110 Passiamo adesso Al giornale economico Siamo molto delusi E chissà se Bonomi sarà deluso Vediamo Da quello che ha fatto Il governo in questo decreto Super bonus Subito il taglio Al 90% Caro bollette Ecco tutti i nuovi sconti Sorpresa Inflazione USA Ai minimi da gennaio E Wall Street Si infiamma Ci sono due grafici Molto Eclatanti Che sono i più Che si vedono Negli indici di borsa Nasdaq ha fatto Più 7,35 E L'S&P 500 Ha fatto Più 5,53 Quindi sono Insomma Le borse Ieri Che erano sempre Molto sul Chi va là Dopo i risultati Dell'inflazione Sono esplose E invece c'è una reazione Di Bonomi Bonomi Ora è necessario Tagliare le tasse Sul lavoro Quindi Non è soddisfatto Ancora del decreto Quindi come sempre Bonomi Non è mai soddisfatto E quindi chiede Tagliare le tasse Sul lavoro Che comunque è una cosa Che va fatta assolutamente Abbassare il cuneo fiscale Poi dopo i dati di ottobre I mercati scommetto Su una Fed Più Accomodante E C'è tutta una parte Sui decreti aiuti Quater Via libera Il CDM E tento il contante Tra i relazioni più facili Bollette a rate Più spazio A welfare aziendale Fine tutta la gas Estesa di un anno Per le billette Sconti legati al reddito Le imprese Migliaia di aziende A rischio Perché adesso Già le aziende Che questo super bonus Hanno Diciamo Visto E Utilizzato Adesso Hanno avuto dei cambi Che tra l'altro Anche questa roba Inaccettabile Non si può fare Un Come posso dire Una norma Di tale entità Così pesante Così grossa Che carica Anche di anni Lavori grossi E poi cambiare le leggi 50 volte Ma questa è colpa di tutti Governo Conte Governo PD Governo Draghi Adesso governo Meloni Cioè Le aziende sono esasperate Perché ogni volta Ogni sei mesi Gli si viene Detto È cambiato Fatevi un altro giro Non va bene Bisogna rifarlo Insomma Le aziende sono Tantissime in difficoltà Tante sono fallite Purtroppo E E questa è colpa Della burocrazia italiana E del fatto che la politica Non riesce mai A dare dei termini Lunghi Per le questioni Questo è un grande Grande problema E Il cambio di governo E questo Uno dei Degli enormi problemi I cambi di governo Che ci sono in Italia Ogni Un anno Ogni anno e mezzo Ogni due Sono una follia Perché la maggior parte Delle volte Ribaltano completamente Quelli che sono Le iniziative Prese al governo precedente Quindi è È una follia Che blocca Un paese Già Tremendamente colpito Dalla burocrazia Queste sono le notizie Del giorno Un giorno Vi metterò a fare Gli approfondimenti Ma Non è ancora il momento Quindi io vi saluto Vi abbraccio E vi rimando A domani mattina Per un'altra Battrassegna Ciao a tutti Ciao a tutti